Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic, sono qui a portarvi un nuovo squad builder e stavolta dopo che vi ho portato tipo 3 squad builder argento andiamo con uno oro classico con due giocatori veramente top di questo gioco come avrete visto nella miniatura comunque ho usato come modulo il 433 con il trequartista il trequartista sarebbe diciamo tra virgolette sbagliato, dopo parleremo di questo comunque mi sono trovato bene con la squadra, è una squadra che segna, è una squadra che difende bene e quindi in realtà sto video lo faccio qualche giorno dopo aver provato questa squadra aver giocato con questa squadra quindi alcune cose potrebbero, alcune cose potrebbero ricordarmi comunque andiamo con il portiere che è, non è Casillas, è comunque uno spagnolo cioè Digo Lopez che devo dire che è veramente spettacolare come portiere perché mi ha fatto dei salvataggi veramente miracolosi in molti casi dimostrerebbe forse più riflesso perché ha davvero avuto in game un riflesso pazzesco e come ho detto prima mi ha salvato davvero tante volte, è davvero un top portiere poi terzino destro, ho utilizzato Carvacal, dovrebbe essere la versione upgrade questa ottimo terzino, abbastanza veloce, buon passaggio, ottimo dribbling e comunque forte in difesa e ottimo fisico anche se lui comunque non è molto alto 1,73 però costa poco più o meno la carta e rende veramente molto bene poi come difensore centrale di destra ho utilizzato il grande Ramos, Sergio Ramos davvero un top difensore, uno dei migliori del gioco ha questo work rate alto normale che potrebbe trarre in inganno qualcuno ma comunque si riesce a giocare molto bene, è un giocatore difficile da trovare sul mercato però se state lì qualche minuto dovreste riuscire a prenderlo e comunque vi garantite un ottimo centrale, molto veloce e soprattutto fortissimo in difesa e in fisico compagno di reparto, un giocatore che secondo me non dà meno cioè Chiellini che è messo a sinistra è veramente forte visto che lui è mancino work rate opposto rispetto a Ramos devo dire che è un giocatore pericoloso anche perché fa gol non so come abbia fatto a fare due assist, non chiedetemelo e anche lui è molto veloce e fortissimo in difesa e fisico poi come terzino di sinistra un giocatore più che altro per fare intesa ma comunque non si è comportato male cioè Criscito si è comportato peggio in altre squadre secondo me, Criscito ha stato abbastanza bravo non mi ha fatto né gol né assist però comunque sia come terzino ha fatto il suo lavoro quindi non mi dilungo troppo su Criscito andiamo a centrocampo come centrocampista centrale ho utilizzato un giocatore che quest'anno ho usato parecchio perché mi piace cioè Enzo Perez versione upgrade del Valencia è un completissimo centrocampista perché ha più di 70 in tutte le stats e comunque rende molto bene ha un ottimo tiro, è veloce, è forte in difesa, recupera pallone e anche un ottimo dribbling per non parlare del passaggio da cui derivano 4 assist mi ha fatto anche un gol quindi devo dire che è davvero un gran centrocampista con i controcazzi forse un Nainggolan un po' più forte per quanto ho provato in questo gioco poi come CC di sinistra ho utilizzato Marchisio un altro top centrocampista mi è piaciuto alto alto come Warcrate ci sta anche abbastanza bene perché attacca e difende senza ombra di dubbio ha anche 4 stelle abilità che lo aiuta molto nei dribbling e questo mi è piaciuto mi ha fatto un gol e 3 assist in tutte le partite che ho fatto a dire la verità non so se mi ha fatto questo gol che ha fatto non so se me l'ha fatto con questa squadra comunque qualche assist con questa squadra me l'ha fatto senza dubbio poi come COC ho utilizzato un giocatore che come vi dicevo è sbagliato cioè Pastore Javier Pastore in realtà dovevo utilizzare Di Maria versione Paris Saint Germain però credetemi non si trova sul mercato non sono riuscito a trovare cioè sono riuscito a trovarle ma sono andati via talmente velocemente che non ho fatto in tempo a prenderli tutti quelli che ho visto comunque non si è comportato male Pastore è un giocatore molto molto lento come potete notare però mi ha fatto un gol e 2 assist in 4 partite non sono tantissimi ma non sono neanche pochi considerando che il giocatore è sbagliato se ci fosse stato Di Maria questa squadra sarebbe stata senza dubbio molto più forte e sicuramente sarebbe stato più forte di Pastore che comunque ho acquistato per una cifra folle poi come ala di sinistra ho utilizzato il Sharawi versione Monaco prima volta che lo utilizzavo del Monaco devo dire che mi sono trovato molto bene con il Sharawi perché mi è piaciuto anche se è un Warquette alto di difesa quindi molte volte sta un po' dietro però ha anche Warquette attacco alto quindi attacca senza problemi 4 stelle abilità 4 stelle pedevole ottimo tiro da distanza ottimo tiro a giro soprattutto veloce grand dribbling discreto passaggio potrebbe essere qualcosa di meglio però 2 gol e 1 assist in 4 partite non sono malissimo poi l'ala di destra che è il giocatore forse top della squadra Bale ho voluto provare per la prima volta Bale su Ultimate Team quest'anno che non avevo ancora provato tra l'altro è molto difficile da trovare sul mercato dovrete avere un bel culo perché è davvero raro però 3 gol in 4 partite con un assist in più e contando che delle volte se ne è mangiati un casino perché questa squadra purtroppo ha un rating abbastanza alto quindi subisce un po' di handicap un po' di momentum in qualche partita però devo dire che Bale è veramente un giocatore formidabile quando prende palla è gol al 100% perché oltre a essere velocissimo ha un controllo palla un dribbling pazzesco quindi l'avversario non riesce mai chiunque sia a prendere il pallone a Gareth Bale quindi davvero una forza della natura questo giocatore e per concludere parlando di forze della natura il grandissimo Zlatan Ibrahimovic che a dire la verità mi aspettavo qualcosa di meglio da Ibrahimovic adesso vi dico il perché mi ha fatto solo 2 gol in 4 partite e un assist e infatti ci sono rimasto un po' male ma ci sono delle cose che ti fanno capire che questo giocatore non è il top giocatore per quanto riguarda l'Ultimate Team è fortissimo un 90 ha un tiro pazzesco un dribbling pazzesco un ottimo passaggio un fisico della madonna è altissimo ha 4 stelle abita 4 stelle pedevole però quando ha il pallone che è lontana dalla porta fa molta fatica per quanto riguarda la velocità e molti avversari riescono a recuperarlo facilmente anche lui è un giocatore molto difficile da trovare sul mercato dovrete avere un bel culo per trovarlo e inoltre ha un work normale d'attacco che non mi è piaciuto perché è sempre sulla tre quarti e mai nella posizione offensiva che io desidero però come vi ho già detto magari anche il modulo è sbagliato per utilizzare Ibrahimovic magari che ne so in un 4-4-1-1 o in coppia d'attacco in un 4-1-2-1-2 è un mostro fatemi sapere cosa ne pensate di Ibrahimovic se l'avete provato in questi moduli o in che modulo l'avete provato voi e se vi è piaciuto comunque in questo modulo è un ottimo giocatore ma per farti fare il salto di qualità ci vuole ancora qualcosina anche perché costa tanto e quindi ci si aspetta qualcosina di più magari tra l'altro non sono io che sono in grado di usare Ibrahimovic non lo so comunque raga il video è questa la squadra è questa spero vi sia piaciuta è comunque una squadra molto forte sia in attacco che in difesa ovviamente come sempre vi invito a lasciare un bel like 300 mi piace uscirà un nuovo video fatemi sapere nei commenti che squadre volete successivamente mi spiego meglio se volete una squadra bronzo, argento, oro ibrida, mista eccetera eccetera fatemi sapere anche i giocatori che vorreste che io utilizzi iscrivetevi al canale pagina facebook, twitter, instagram tutti i link li trovate in descrizione adesso vi lascio le clip ci vediamo al prossimo video bella raga ciao 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 ciao